Signore, perché fuiste trinetta dell'Apocalipsis in questa vita? E solo ti chiede, che legge la fuerza, la valore e la destreza, per realizzare i nostri monti in questo giorno. Signore, sono i Caporales di Rancho El Cementerio. Vengo di un po' piccolo, sono nascito allà in la Unione, dove come il che lavato, il toro, fino a che si va dal sole. Estan listos per liberare la battaglia, disposti a convertire in Caballeros Águilas, comandano la ganaderia, i i i i i i i i il cemento e i su loro dei salvati benvenuti e che si escatte fuerti questo applauso per ricevere i salvati il cemento, ven il applauso signor e signori i fratelli garcia il più querido di Oaxaca il pequeño gran guerrero e che si escatte il applauso da la gente di Chincuncualtra qui sta il pequeño Pequeño Gran Guerrero Signor e signores Il più querido di Oaxaca Aquele che ha fatto il lavoro A base di disciplina A base di molta fede in Dio Hoy è stato visto in questa plazza Per affrontare a un toro Desalmato in questo turbe Llamato Oaxaca Per tutto México Signor e signores Qui ci sono i membri Che faranno la vita Per portare un po' di moni a casa E per divertirli a voi Io credo che ci deve motivare Ma se merecen E un forte applauso a tutti 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!